Un risultato straordinario, 500 presenze tra professionisti e dilettanti per i vantolotti, una giornata che sembrava magica, un gol di testa, meraviglioso, uno stacco imperioso, poi un risultato che invece non è stato favorevole ma una giornata comunque speciale. Una giornata a ricordare per la festa iniziale e per il gol, peccato che poi siamo ritornati alla realtà della partita, sembrava troppo bello per essere vero andare in vantaggio con un mio gol in questa ricorrenza e invece dopo la partita è andata in tutt'altro modo e questa sconfitta diciamo che rovina un po' la festa. Una carriera da incorniciare come abbiamo detto e 500 presenze distribuite tra tante squadre, ricordiamo Spitaletto, Varese, Rodengo, tante altre, Ivrea e quindi una giornata del ricordo però anche ancora qualche sogno nel cassetto per il futuro? Diciamo di continuare a giocare il più possibile e possibilmente in una società come la dell'Ese che con questo riconoscimento ha dimostrato di credere in me e io non posso fare altro che ringraziarla. Primo obiettivo è quello di raggiungere il playoff, questa sconfitta lo fa un po' allontanare però mancano ancora 9 partite quindi possiamo ancora raggiungerlo, ci sono due partite importanti adesso Orsa e Ghisalba quindi se falliamo queste si allontanerà definitivamente.